Continua la lotta, Lily non ne può più, per oggi, lei molto elegantemente, lui molto azzurramente, è vero sbadiglio? Dovrei proprio rompere le scatole, cari Lisa, questo è per te, ricordati che sbadiglio super vivace, super, 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 è vero zia? Ecco, devi rompere le scatole, anche qui dentro, qui è dove loro stanno tranquilli dal freddo e dai maltrattamenti che possono ricevere lì fuori, vi ricordo che sbadiglio è stato rapito in questa villetta ed è stato quasi impiccato, adesso non lo teniamo qui dentro quando non ci siamo. Per fortuna sbadiglio è rimasto comunque un cane vivace e non spaventato, per forza, tenere davanti una pazza scatenata come chi l'ha salvato per tre volte, voglio dire, è un po' difficile avere paura, è vero sbadiglio? Ho imparato tutto dalla guerriera e anche tu sarai guerriera presto, anche tu sarai guerriera, sarai guerriera, è vero anche tu sarai guerriera. anche noi saremo guerriere, è vero? Eccolo, ecco! Aiuto! Anche noi saremo guerriere, è vero? Aiuto! Non riesco! Ecco, ricomponiamoci!